Spesso non si conosce davvero il contenuto e le potenzialità della tecnologia, allora questo premio di fotografia e quindi anche la scuola di fotografia che poi abbiamo trovato quest'anno come partner, conoscere le potenzialità di questo racconto diventa quasi necessario per non produrre superficialità e periferie, abbiamo anche degli architetti, la periferia viene fuori da un pensiero abituale, tutti noi e anche i ragazzi a guardare con attenzione perché quando faccio clic e questo clic poi deve raccontare qualcosa, devo essere attento, devo conoscere, devo sapere e come dicevo a Livio Toscani adesso tutti fotografano, poi bisogna capire quale foto resterà e quale invece sarà sicuramente in colla, un personaggio che ha saputo costruire la storia diventi un'esperienza umana importante per noi. Io, se due parole sulla storia di Livio Toscani vittere insieme tutta questa storia mondiale. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Essere ottimisti per essere commercianti è un'ottima cosa. Io sono un ottimista per cui vedevo nella dare prodotti a basso prezzo la felicità della gente, mi gratificava di più che dare prodotti per i quali la gente si era contenta ma era anche scontenta perché costavano cari. Per cui ho pensato subito di fare un negozio di moda a basso prezzo e già questo era la rivoluzionaria. Adesso il mondo è governato da queste grandi multinazionali Zara e C&M che vendono la moda bellissima, quella moda che facevo io allora, che per tutte le ragazze e tutti i ragazzi ha dei prezzi incredibili. E quella era stata una visione, una visione che la moda non doveva essere esclusiva di una classe alta, no? Perché prima la società era divisa in classi. Sotto ci stava il proletariato, poi ci stava la porgesia, poi ci stava l'aristocrazia e ognuno aveva uno suo stile di vita. Gli anni 60 hanno distrutto questa piramide di valori perché hanno, come dire, rivisto questa valutazione per invece farne una valutazione più complicata ma più giusta. Cioè non era la piramide dell'aristocrazia la piramide dei valori ma invece la piramide dei valori era l'intelligenza, soddisfare i bisogni delle persone, avere un rapporto giusto con l'ambiente, avere un rapporto giusto, amare la gente. Cioè, userei però amore. Perché l'amore secondo me unisce tutti noi. Cioè l'unico bene che abbiamo e che possiamo usare è l'amore, l'affetto pegnante. Ogni volta che dai affetto ricevi affetto. E allora questo nel commercio è sempre incredibile, però è uno degli elementi di vincita, è uno degli elementi che la gente capisce. Quando compra un prodotto e paga poco esce dal negozio con un sorriso e con una questione dentro il cuore molto positiva. Io ho capito subito questa cosa, cioè il prezzo basso, la cosa molto bella e la gentilezza nel cuocere il prodotto al cliente. Però adesso mi chiamano a fare ragionamenti sul marketing, la complicazione del marketing. Io dico guardate, il marketing è la cosa più semplice che c'è. Quando tu vuoi bene la gente, vinci. Quando tu vuoi bene la gente e vuoi bene i soldi, non vincerai mai. Allora per esempio, io dicevo quando eravamo in un grande negozio, abbiamo fatto un negozio di 1500 metri, dicevo alle mie commesse. Quando in tutto erano tutte ragazze molto carine, molto gentili, molto educate. Quando usciva una cliente che non aveva comprato, ho detto dovete essere più gentili con quelli che comprano e dire grazie di essere venuta, grazie di essere venuta a trovarci. Questo, sembra incredibile, ha sparso la voce che da più luce c'era la musica, c'erano belle ragazze, c'era tutto ciò che c'è di nuovo, perché io vendevo dai libri, ai profumi, agli ucchiali, c'era un grande magazzino. Per cui la formula era quella di aggiungere onestà e gentilezza. Mancava l'onestà e la gentilezza e il successo sarebbe arrivato. E anche la novità, nel senso che non potevamo riprendere il modo di vestire delle mamme o delle generazioni precedenti. Dopo la minigonna di Mary Point, io ho pensato che si stava muovendo il mondo, sono andato qualche volta a Roma, e ho detto, deve cambiare il modo di vestire, la gente deve cambiare il modo di vestire. E ci siamo inventati dei jeans, che poi hanno fatto la storia del mondo dei jeans, da portare tutti i giorni, per andare alla scuola, per andare all'ufficio, ma erano jeans tagliati non come abiti da lavoro, ma come abiti da città. Cioè, i jeans da donna erano da donna, erano tagliati molto bene, per cui voglio dire, c'è stato un salto di qualità di quella moda che sembrava destinata per il lavoro, che diventava invece una moda per andare a scuola, una moda per andare all'ufficio, una moda di tutti i giorni. Adesso questa cosa è di tutti i giorni, è di tutti, però voi pensate, 30 anni fa, era una cosa molto, come dire, molto nuova, molto curiosa. Ecco, questo è stato l'inizio. Come vedete, è tutto molto semplice, non c'è nessun mistero, il mistero sta nelle cose semplici. Alla fine, uno vuole andare a guardare, vede che c'è la semplicità. Non c'è mai niente che sia nascosto, che sia misterioso. Guarda i propri sentimenti e dice, ecco, questo e questo è quello buono. Cioè, se sono buono, se sono onesto e se voglio bene alla gente, la gente mi guarda bene. Siccome essere voluti bene, dico io, è un bisogno di tutti, specialmente io ho sempre voluto essere voluto bene, non so perché, avevo bisogno di essere amato, allora volevo amare la gente. Poi ho pensato un'altra cosa, fine della paura, inizio della vita. Allora iniziai a pensare, forse sono accettato, perché deve essere non accettato. E' vero, non sono bellino, però alla fine sono buono. Mi sono fatto dei complimenti da solo per tirarmi su e ho detto, ma no. E ho scoperto che poi la gente mi voleva bene, ho preso coraggio, sono andato avanti e mi volevano bene tutti. Cioè, mi volevano bene i giornalisti, mi volevano bene i fotografi, perché non mi davo mai importanza. Ho sempre pensato, io sono concreto, io vengo dalla Campania e devo dire che ho usato con tutti lo stesso linguaggio. Io racconto una cosa che è storica ed è straordinaria. Quando sono andato a New York, ho conosciuto, anzi, Andy Ward è venuto a trovare nel Fiorucci, che aveva aperto questo negozio, ha disegnato da Ettore Sozza, San Andrea Branzi, e ad un certo punto scrive nel suo tiario, questo l'ho scoperto dopo, sono stato da Fiorucci, c'è tutto quello che mi piace, ci sono anche dei bei ragazzi e ci tornerò. Non passano pochi mesi che lui lancia la sua rivista interview. La sua rivista interview era anche quella un'innovazione, non era un'intervista scritta dal giornalista, ma era un microfono che veniva messo davanti, come è successo adesso, a una persona e gli diceva raccontati, allora raccontati, ognuno di noi doveva raccontarsi, no? Ognuno di noi doveva raccontarsi, no? E ha fatto un giornale che si chiama Interview, che va a questo, dei racconti delle persone, che ha avuto un successo enorme, perché non c'era il giornalista che bigliava e c'era invece la verità di quello che uno pensava e diceva, non spontaneamente. Ecco, lì è nata l'amicizia con lui, perché, vi racconto questo episodio per dirvi quanto quell'uomo fosse interessante semplice. Ad un certo punto, mi chiama lì nella sua factory, come solito, lui metteva un microfono al centro del tavolo, eravamo sei, sette persone, lui sta un po' con noi, noi iniziamo a parlare tra di noi, cercando di parlare con lui, a un certo punto però mi ha presi, ancora adesso non è buono, allora è un pessimo, e allora a un certo punto cercavo di non parlare. Però mi è venuta in mente una cosa, dire, senti, ma perché ti sembrano così moderni i tuoi quadri? E lui con semplicità dice, no, ma io come vivo a New York e mi ispiro ai neon di New York. Sai che lui si è ispirato a tutto quello che c'era, la canca al sud, cioè faceva un po' la mitologia del presente, di quello che era il mondo presente, lo rappresentava. E allora, ad un certo punto, a me viene in mente di dire, ma sì, è vero, qui è bello, perché c'è il neon, anche a Milano era un po' di neon, è vero, non era bravo, ma mi è venuta in mente di dire, è vero che è questo qui, però io devo dire la verità, siccome io vengo dalla campagna, mia zia ha le munca ricatto così, io sono molto più felice quando sto con mia zia che quando sono a New York. Tutti mi hanno guardato, dicendo che Rucci è impazzito, adesso cosa chi dice è il ruolo, Andy Warwick ha fatto così con la testa, come dire, forse non è andato in questo video. Va bene, per farla vedere, dopo due mesi mi chiama, mi porta a casa sua dove non portavano nessuno, non andava per nessuno, perché lui faceva tutto sotto nella sua parte, e mi fa vedere, lui viveva con poco l'accello, che vive ancora poco l'accello, purtroppo. Andy Warwick ha morto qualche anno fa, ma poco l'accello, che vive ancora, ha la mia stessa casa, ed è il più grande, come dire, antiquario commerciante di quasi dell'ottocento inglese, che parla di mucche, di caffè, di tutte visioni di Campania, che era talmente intelligente che aveva detto che lui mi voleva rispondere, dicendo, guarda che io non sono così stupido, che sono innamorato di New York, io so bene che la natura è la cosa più forte che c'è, e che alla fine è quella di Cimulto, voleva dire. E allora, per questo viaggio che mi ha fatto fare lui nella sua casa, dove non portava nessuno, ed è al pieno di quasi dell'ottocento, e sappiamo tutti che quasi l'ottocento sono tutti quasi sulla natura, era un linguaggio meraviglioso per parlarci, e ti fa capire, a caso lui è nato disegnando scarpe, io su un lato disegnando scarpe, forse è qualcosa in comune. Ecco, questo vuol dire, come la semplicità, la puoi usare sempre, con chiunque, perché uno che non capisce la semplicità, non è un uomo che vale. Allora, per avere fiducia in se stessi bisogna essere semplici, o mi accetti per quello che sei, o non posso essere un altro, io sono proprio suo. Ecco, questo è stato il mio inizio. Allora, ad un certo punto ho avuto subito il favore di Andy Warhol, ho avuto la fortuna di conoscere Madonna, che era una ragazzina, e che è venuto nel negozio, a dire se assumevamo sul fratellino, a fare il commesso, voglio dire, abbiamo avuto tutti i personaggi che sono venuti e quando c'è stata l'innavorazione, lo studio 54, ci hanno chiesto se sponsorizzavamo lo studio 54, lo abbiamo inaugurato noi, lo abbiamo sponsorizzato noi. Poi, quando c'è stato il ritorno di Simon Perfunker, che hanno stato dopo la fine, dopo il romanticismo che ci avevano regalato, diciamo per anni, hanno fatto innamorare mezzo mondo, a un certo punto si riunivano, che facevano un grosso concerto per la riunione e cerchavano uno sponsor. Allora ho detto, lo faccio io uno sponsor, perché è il romanticismo che abbiamo avuto tutti noi quando ci namoravamo, perché c'era questa musica di sottofondo che, ecco, allora se voi andate in internet dovrete concerto, 400.000 persone, e io sono dico il sindaco di me e io ci ho scritto, per dirvi, è tutto casuale, non è che è una cosa, c'è chissà che intelligenza, che è solamente la spontaneità, 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 essere gentile, fare dei prezzi buoni, fare dei modelli nuovi, non avere paura del nudo, perché le donne nude sono più belle che vestite, io lo diserlo sempre, e allora questa verità, questo modo semplice di parlare senza paura, ha creato subito la curiosità. La curiosità era che poi si svelava, semplicissima, io sul mio ufficio ho un quadro di Maria Teresa di Calcutta, perché la vera santa è lei, che è andata a lavorare tra i poveri e i poveri, malati, e ha dato tutta la sua vita a questi disgraziati, senza pensare ad altro, pensando che la scredice salvando gli altri. Un'altra fotografia che c'è solo nella scrivania, è questa scrivania di questa ragazza a Cino, e non è Brasfemo, ma dopo vi spiego che non è Brasfemo, che è una ragazza nuda. Allora uno dice, diamo significato alle immagini, Maria Teresa di Calcutta la dobbiamo adorare per quello che fa, la ragazza afghana la dobbiamo adorare per il male che abbiamo fatto, e la ragazza, alla fine, l'erotismo, se buon Dio ce l'ha dato, e noi siamo consapevoli, è una cosa sacra, se lo sappiamo fare bene, se questo serve a unire due individui che si amano, che si vogliono bene, per cui non bisogna vergognarsi del nudo. Io infatti ho cominciato a fare i topes, perché ha una ragazza che ha un bellissimo senno, non capisco più di nascondermi, e ho ragionato in termini direi un po' coraggiosi rispetto alla mentalità, ma anche pieno di convincimento di quello che facevo io. dicono, ci può essere la volgarità nel corpo di una donna, se la donna l'ha fatto un po' di io così, perché deve essere percognoso, perché l'uomo è cattivo, e guarda con cattiveria, o guarda con affetto. Allora, questi sono ragionamenti da bambino, se tu ci pensi, è un bambino che parla, e io sono un bambino, sono un grande bambino, sono contento di essere bambino, e mi sembra che mi abbia dato più buoni risultati. Forse mi sono distratto dagli affetti familiari, non posso dire di essere stato un esempio di affetti familiari, perché ero troppo distratto dal successo, però mi sembra, ho cercato di fare delle cose semplici, queste cose semplici oggi vengono considerate autorealmente. Io ho fatto un negozio migliore, disegnato da il tuo risorso, anche a Lanzi, ho fatto un negozio di Los Angeles, disegnato da Lavorone e da Franco Marabelli, ho fatto un negozio di Atomino, poi ho fatto un negozio con un teatro dentro, ho fatto un negozio, insomma, io amavo di più fare e amare la gente, che non fare commerciante, perché commerciante era il modo di giustificare il fatto che io volessi stare con la gente, avevo talmente bisogno di stare con la gente, avere degli amici, parlare, che il mio lavoro è stato quello di costruire attorno a questo mio bisogno anche un lavoro che me lo potesse permettere. E questo qui è quanto di più semplice si possa immaginare. Ma guardate che i successi, se poi li analizzate, conoscete da dove vengono, vengono sempre da un gesto di bisogno, di affetto, la scuola, o qualunque attività, ha sempre dietro un progetto d'amore, un atto di amore verso gli altri, e un atto d'amore, cioè questo ci rischia. E come vedete, il mio discorso è molto semplice, non è affatto di grandi segreti, è proprio il semplice più semplice. Dopodiché, voglio dire, vedi che tutto funziona in quel sistema, i supermercati che guadagnano di più, che vengono di più, sono quelli che hanno una merce più bella, un atto più basso, giusto? E dove ti trattano meglio, e dove sei più fiduciosa, che la merce sia più robita. Invece adesso vi voglio trovare un altro tema, che mi sta a cuore. Assieme a molte altre persone, io sono stato nominato a bassa torre alle scuole. Perché? Perché mi sono sempre espresso, voi avete trovato lì sul tavolo un foglio, che racconta un pochettino, come vedo io, non immaginare, in quanto se tu pensi, non sai che si è visto a segnare il tema sul nucleare, sul nucleare non si può dire che male, pericolo, la bomba atomica va sempre nelle riserve, di tutti i paesi, più pazzi del mondo, c'è un pochissimo da dire, invece nella nostra mission, che è quella di parlare della salute del pianeta, che avvenga la salute dell'uomo, ci siamo scatenati. Abbiamo detto, qui è veramente il momento di fare risaltare l'Italia. Cosa è che fa risaltare l'Italia? Secondo me, il cantico, il cantico dell'Italia. San Francesco, che è stato, diciamo, il Sanse più intelligente, più bravo, che cosa ha detto? Ha detto, che è lo sole, sarà la luna, sarà la luna, cioè aveva già capito che tutto era collegato e che una cosa faceva vivere l'altra. Aveva capito che bisognava rispettare gli animali e perché gli animali non si rispettano tra di loro. Ci sono dei disegni, di San Francesco, che parla, che c'è il lupo, che lo ascolta così, vicino alla gallina, diceva, che il sentimento che dobbiamo avere noi nel futuro è esattamente il cantico delle creature. Perché alla fine, dentro il cantico delle creature, di San Francesco, c'è tutto quello che dovrebbe essere. Abbiamo bisogno di vivere in pace e in amore sul pianeta. poi se si legge la storia di San Francesco, addirittura San Francesco voleva andare a parlare con i musulmani perché diceva che non c'era ragione di essere contro, di un incontro che altri. Per cui abbiamo già visto la pace come uno dei primi importanti. Io trovo che il nostro Papa, chiamandosi Francesco, ha anche fatto una scelta straordinaria. lui è un uomo straordinario che si sta preoccupando delle cose in modo serio e lui, voglio dire, senza saperlo ci si trova a ragionare forse in modo molto semplice e a trovare soluzioni che poi invece sono soluzioni importanti. Ecco, io volevo dire la soluzione. Se qualcuno vuole farmi qualche domanda mi aiuta. Perché... Mi interesserebbe sapere la sua... il suo giudizio sulla moto odierna per questa tendenza a guardare al passato. Lei è stato innovativo e ha guardato con un occhio nuovo appunto non ha riproposto gli istituti delle mamme e delle nonne. al momento io vedo che si tende molto a far riferimento agli anni passati. Lei, no? Da un impoverimento delle idee visto che... Oppure una semplice rivisitazione in chiave... Ti rispondo subito. Ti rispondo subito. Grazie. Ho capito l'interno. Dunque, la moda si dice corso per riporso, no? Le cose vanno e poi si tornano e poi si tornano. io ho avuto la fortuna, anche qui la fortuna, di vivere un momento nel quale c'era stata la necessità di cambiare la moda. Nel senso che iniziavamo a vivere un periodo diciamo culturalmente evoluto e la scienza procedeva e la nostra vita procedeva e tutto diventava più facile e non si poteva pensare di vivere con le donne che andavano a fare il bagno con, non so, fino a avere questi costumi fino alla camiglia. si è capito dopo, io dico nel quadretto nella cosa che dico io, nel 1000 dopo la guerra c'è stato un movimento che si chiamava diciamo la new generation di scrittori e di un generation di pensatori e di musicisti dai Beatles a tutti quanti che parlavano di cose molto semplici e di cose fattibili cioè parlavano per tutto della fine della paura la fine della paura vuol dire non avere paura del giudizio degli altri si te stesso perché se sei te stesso sai sempre difenderti perché se sei te stesso hai tutti gli argomenti per difenderti non cerca di essere un'altra cosa cerca di essere te stesso e questo è un grande insegnamento che io ho avuto e ho sempre cercato di essere me stesso non voglio essere diverso da quello che sono perché quando io sono sono quando voglio essere un'altra cosa non so più che sono allora questa è la prima la moda guarda è stata uno dei dei sistemi dei mezzi per esempio come mi ricordo ha fatto vedere le gambe delle donne le gambe delle donne non si potevano vedere mai perché anche al mare poi voglio dire se pensi all'inizio del secolo addirittura andavano con dei vestiti i lupi prima alla camiglia per cui un'ipoesia incredibile adesso poi da lì nasce il topres nasce il topres che all'inizio può scandalo poi tutti adesso fanno quando vogliono se toltono se ne fanno quando vanno ha liberato dalla gente dalla paura adesso la gente è se stessa ed è più felice tutte le donne oggi portano i jeans io sono stato felice di fare i jeans se vi racconto come ho fatto a fare i jeans non mi viene da ridere ed è molto semplice un giorno vado in pizza e c'erano i ditti i ditti venivano queste ragazze australiani o americani che venivano avevano i jeans della velis a un certo punto io vado lì vi incontro una sera eravamo seduti lì con loro sulla spiaggia c'erano queste ragazze e vedo che entrano nell'acqua con i jeans io sono dall'acqua e si vedeva la meraviglia di questi sederi di queste ragazze ho detto ma come mai la velis non ha mai pensato di fare i jeans da donna i jeans da donna sono quelli che sono disegnati sulla che la donna ha una configurazione completamente diversa per cui sono tornato al caso tra i jeans da donna è stato il successo vediamo un milione di paio di jeans da donna perché la donna porta il fuso e anche quello lo abbiamo fatto noi perché abbiamo fatto l'aberguristo il flash dance e ho detto ecco le donne stanno bene vedo che sono anche delle ragazze carine che hanno il fuso perché è comodo perché alla fine gli permette i movimenti la gente è più naturale più spontanea e poi vedi sono tutte risposte alla semplicità e alla non paura invece se hai paura allora ti porti la donna fino alla caviglia come se le donne fino alla caviglia sono più serie di quelle che vese la donna sono più serie di quelle non è così questa notte non è la lunghezza della donna che fa la serietà della donna la serietà della donna non serietà se la vuoi chiamare perché io non chiamo neanche non serietà perché il sesso per cui se l'autismo c'è e se lo facciamo come persona giusta lo facciamo per il tuo reato o anche per non stare ad altri che gli vogliamo bene è una cosa stata santa allora qualunque cosa io la sacrifico perché dico se c'è la natura che ha fatto queste cose e c'è qualcuno che crede a Dio Dio è la natura perché la natura l'ha fatta lui perché appunto quando San Francesco parla parla le creature parla tutte le creature come fossero figlie di Dio perché dice addirittura fratello sole sorella luna cioè vuol dire che immagina questo Dio consapevolissimo di tutto quello che stava facendo con un'idea precisa di fare la gente felice e di farlo andare d'accordo se tu vedi i disegni fatti nel cantico delle creature tutti gli uccellini tutti gli animali sono via di un lupo che ascolta Francesco a bocca aperta e ascolta le parole gentili che San Francesco dice al lupo allora dico c'è un insegnamento della religione un insegnamento della nostra coscienza e c'è il popolo che è fondamentale che capisce questi messaggi e li vuole sentire poi ci sono quelli che in termini interpretano male la chiesa interpretano male una malizia e poi magari sono invidiosi e poi sono paurosi e poi sono superstiziosi e poi allora si complica la vita allora dico niente superstizioni io una volta era superstizioso e pensavo quel 6 portasse male pensavo che c'è un certo punto andavo in macchina e arrivo ai caselli il maccoco che stava uscendo il 6 faccio così per portarmi fortuna andare su per marco per terra come te mazzo un persona lì ho detto sono così cretino che non mi permetterò mai più di pensare che un numero pensa male perché pensa male è dai chiotti e allora siccome io non voglio essere idiota piuttosto di ammazzare un pulino per le macchine per lo ticcio chi se ne prega se tu c'è il 6 che lo tiva bene 6 su 6 esce dalla 6 ecco allora dire questo gli superstiziosi fanno tante di quelle cazzate che perdono tanto di quel tempo che potrebbero impiegare benissimo per far meglio invece perdono tempo per cazzate dietro a cazzate perché non passo di là non passo di qui non vedo provino si rovinano la vita essere superstiziosi è una fregatura invece grazie 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 non c'è una cosa di cosa ma è raccogliato i contenuti profondi Ferrucci ha innovato praticamente tutto è anticipato di 30 anni tutta la vita è cominciato con questo viaggio a Londra adesso si dice che in Italia se vuoi vivere devi esportare nel mondo della globalizzazione in realtà però tu già 40 anni fa hai cominciato con questa azienda che viveva in America vendeva in America Latina in tutta Europa e in Giappone e fino a che il Giappone ha comprato proprio ma che produce ecco tutta questa ha funzionato molto bene perché pensandoci bene poi adesso vai in Sud America tutte le ragazze fai fatica a capire se sono italiane o sono sudamericane portano tutte il jeans sono ragazze molto belle perché le nuove generazioni forse perché sono state più fortunate sono più felici noi abbiamo avuto la guerra abbiamo avuto la fame abbiamo avuto un comportamento queste ragazze nuove diciamo vanno a scuola vanno a scuola di fotografia fanno tutto quello che gli piace fare possono arricchirsi viaggiano e poi non dimentichiamo che in questi ultimi anni abbiamo avuto l'ultima benedizione meravigliosa che è la comunicazione tra gli uomini io c'è troppo e penso una volta per andare in America ci volevano tre mesi di nave allora a questo punto dovevo avere una visita da un medico dovevo mettere fare la radiografia mettermi sulla nave andare là insomma adesso si fa l'appuntamento col grande scienziato americano si fanno le lastre con una comunicazione via internet lui guarda la lastra e ti dice nel giro di 10 minuti no guarda secondo me questa qui è una cosa così 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 e tu parli c'è il tuo medico presente se sei in contatto non ci rendiamo conto noi abbiamo dei regali per ogni giorno dovremmo festeggiare un regalo che sia stato fatto il telefono è un regalo la radio è un regalo la televisione è un regalo cioè tutto ci è regalato e tutto ci sembra dovuto ma vi rendete conto che cento anni fa non c'era niente di tutto questo e la gente per parlarsi doveva prendere un cavallo e andare io mi ricordo cosa mi diceva mio padre sono contento dell'invenzione dei motori perché non vedrò più bastonate ricavarli perché dovrò tirare dei carretti con sopra dei tronchi di legno adesso tagliano gli altri gli prende una gru li attraccia c'è la sega automatica che li sega li piega li mette su la remoto cioè ci vediamo in un mondo di sogno dobbiamo svegliarci tutte le mattine e dire ma come mai ci hanno regalato tutto questo e le generazioni prime poverine non hanno avuto io tutti i giorni lo faccio perché le nostre generazioni i nostri padri i nostri nonni non hanno avuto tutto quello che abbiamo noi perché non ci alziamo tutti i giorni e diciamo grazie 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 i scienziati grazie una bella come dire una bella dosi di ottimismo visto che viviamo sembra che dobbiamo essere disperati le guerre la crisi economica la disoccupazione invece con l'ottimismo si possono costruire anche grosse aziende grosse attività è una bella storia io voglio fare una domanda ovviamente visto che siamo qui siamo qui in una scuola di fotografia noi abbiamo anche un dipartimento che si occupa della fotografia di fashion e quindi direttamente correlato a quella che è stata la sua storia imperditoriale e vedendo scorrere le immagini noto che la fotografia ha assunto un ruolo nella sua storia ovviamente ma di cronaca di quello che è mostrato mentre invece utilizzando per la comunicazione ha utilizzato spesso il rapporto con l'arte quindi chiaramente è un periodo storico di grande innovazione sulla comunicazione allora vorrei che gli chiedo il rapporto della fotografia di moda per la moda per lo sviluppo della sua impresa che tipo di ruolo ha avuto essendo questo appunto ci sono i ragazzi che frequentano purtroppo non tantissimi oggi ma comunque loro frequentano il corso di moda e hanno diciamo una prospettiva professionale in quel caso e quindi vorrei che un consiglio allora come si rappresenta meglio l'acqua devo fare una premessa che può spiegare molte cose ai ragazzi giovani io quando ero socio di Luciano Benetton che sono stato socio di Benetton all'inizio ho detto a Luciano non puoi continuare a fare le foto essendo tu un industriale bravo intelligente hai fatto i negozi specializzati con le mani colorate con i prezzi erano i miei primi negozi specializzati solo in maglieria per cui mi hanno servito per chi voleva scegliere che aveva un'opportunità le sue maglie erano colorate i suoi prezzi erano bassi i negozi erano migliaia ad un certo punto io gli ho detto guarda la comunicazione che tu fai non è giusta perché fai vedere un ragazzo sulla spiaggia e ha sul braccio un maglione e c'è scritto il documento ma cosa c'è di diverso da quel ragazzo col maglione e tutti i ragazzi che hanno un maglione ma non sono più allora ti dico guarda devi parlare con il dire toscano toscano lui va dall'area con Luciano nel cover che andrà una sera abbiamo tutti e tre attivate poi lo vediamo da sopra l'area con Luciano e decide di fare la prima foto la prima foto che lui fa è prende 10-15 ragazzi di razze diverse il cinesino il vero il russo tutto quanto ti mette un maglione di colore diverso e a un certo punto li fa saltare e sottoscrive United Cor o Benetton ci credi che la Benetton ha dovuto cambiare il nome non si è più chiamata Benetton ma si chiama United Cor o Benetton questa è comunicazione ma questa è ultra comunicazione poi vi potrei segnalare tante altre foto per dirvi come la comunicazione può prendere delle strade straordinarie se sei intelligente allora a un certo punto Oliviero una volta mi fa vedere una foto che aveva fatto di una famiglia con un ragazzo che sta morendo di AIDS e una lettera che gli dice a live 1 e gli dice caro Oliviero io non credo che facendo vedere un povero ragazzo che muove di AIDS con i genitori disperati al fianco tu farai vendere qualche maglione in più a Benetton e lui gli dice hai ragione non sei di far vendere qualche maglione in meno però quello che io e il signor Luciano Benetton ci teniamo è che si stia più attenti a non morire di AIDS essere prudenti di AIDS è un pericolo quotidiano che hanno tutti i ragazzi giornali piuttosto che vendere un baglione in più questa è un'altra lezione che dà Luciano Benetton all'egoismo della gente che vede sempre che si deve rimanere qualcosa e lui dice io posso anche permettermi di investire per parlare non di quanto sono buoni e meno agli ma anche quanto è pericoloso allora poi ho parlato della pena di morte poi ho parlato dell'AIDS ancora come ricordo che addirittura aveva costruito un profilante con la tela di per la caduta ed è andato con una gru a metterlo su come si chiama l'altro annocco c'era più grande e l'ha infilato sopra con tutte le televisioni francesi allora si è parlato più di quel gesto lì era dissentatore perché a mettere un profilatico su un grande monumento per i francesi poteva far saltare per aria l'azienda però ho il coraggio di dire io voglio dire voglio parlare dell'AIDS in questo momento non voglio parlare di Maglioni ma io sono un'azienda responsabile e questo qui dovrebbe darvi più fiducia nelle mie maglie di quanto venendo se mi dico che sono le più buone le più belle le più picchie le più macchie cioè allarghiamo il rapporto umano oltre le tradizioni e le abitudini dove ognuno pensa di fare il proprio interesse parlando di se stesso e di quanto è buono il suo prodotto come se quelli degli altri facessero schifo non è così i Maglioni e i Benetton sono più buoni perché sono più buoni perché lo si vede costano meno perché costano meno si vede è importante che io posso parlare anche di AIDS questo io lo trovo geniale questa è la comunicazione geniale che mi ha insegnata ai pubblicitari i pubblicitari questo non ci arrivano devono sempre cercare qualcosa però il mondo si è morto come ho detto c'è internet si può intervenire si può parlare per esempio io credo che parlare oggi dei problemi degli animali sia una relazione che attira più simpatia se vogliamo parlare anche di ritorno che non facendo chissà quale accordo sia per dire che questi sono più belli io ho fatto ho fatto ho fatto un'associazione che si chiama Animal Amnesty io sono contro le pellicce io credo che mettere la pelliccia per scogliare una nuova volta c'è un video in internet se andate a vedere fatto da Animal Amnesty che è commovente perché c'è l'Ave Maria di Schur e ci sono questi poveri volti che vengono presi dalla tagliola con una zappa e si lamentano preferiscono tagliarsi la zappa e fuggire con una zappa in meno piuttosto che essere prese e scuoriati per far diventare la pelliccia di una donna allora a un certo punto c'è questa storia bellissima fuori abbiamo trovato questa ragazza straordinaria un truccatore straordinaria aveva una calzamaglia tutta diventa di osso come forse sangue con una pelliccia slaggrata che in piazza del Duomo si è fatta prendere da una tagliola come se fosse stata una propria volpe allora io vado lì e apro la tagliola per liberare questa ragazza ha avuto un successo enorme perché questa cosa qui della piovenza sulla volpe magari cercate i suoi volpini e tu gli sbacchi una gamba o la la freddi e la scuori è troppo cattivo cioè non può essere umano questa cosa non può essere accettato dalle donne di vestirsi di un nemico non si può vestire con la pelle di un animale un ucciso e è veramente contro la natura e contro contro Dio e contro tutto allora voglio dire anche lì stiamo attenti non dobbiamo assolutamente abusare della nostra intelligenza della nostra forza per fare del male lo possiamo fare se non sappiamo di farlo perché nessuno è un santo però voglio dire ad un certo punto prendiamo coscienza prendiamo coscienza che mangiamo troppa carne l'altro giorno c'è un bellissimo articolo di Veronesi che dice non abbiamo i denti da carnivori non abbiamo lo stomaco da carnivori ci maliamo di carne perché a un certo punto non digeriamo bene la carne io l'altro giorno ero da un altro grande medico mi ha detto la stessa cosa dice ormai è risaputo che mangiare carne vuol dire cercarsi un carne e io gli dico ma perché la gente non lo capisce perché non lo capiamo allora io gli dico io sono fidanzato di più tattano sto molto meglio ho tatt'anni mi sembra che ne dimostri qualche giorno o meno mi sembra essere un bambino mi sembra essere una ragazza mi piace una frase ragazza per cui dico funziona tutto bene però dico perché dobbiamo insistere con questa bistecca con questa hamburger e io sono dell'idea che la semplicità ci sono delle pasta asciutte meravigliose delle finestre meravigliose delle verdure meravigliose della frutta meravigliosa dobbiamo quando ammazzare gli animali i vitellini perché c'è una carne più tenera guardate che è pazzesco è pazzesco allora l'espo è questo tema noi ci diamo gli animali perché sono i nostri fratelli e noi lo andremo a dire come magliette San Francesco diceva c'è una moda semplice c'è una moda accessibile che stimola un senso di riconoscimento di non avere in voglia non avere paura e quindi se capito bene questo è il messaggio l'avevamo capito anche da giovani ed eravamo entusiasti adesso sono posserebbe commosso però adesso siamo noi che siamo nella scuola ci sono c'è qualche collega una collega di Pescara questo nostro sforzo è un po' è un po' di guardare il pieno di credere di trasferire una passione per le cose per lo scambio diventa sempre più difficile perché ha cominciato un signore che va a parlare come era delle tre A per la scuola e quindi la scuola azienda la scuola prodotto quindi la domanda che volevo fare e dico noi abbiamo avuto un esempio grazie a me non c'è niente a parlare di un di un felice rapporto dove la scuola si apre ma non è stato un messaggio non è partito dalla scuola e per cui auspicherei che il ministero ascoltasse questa esperienza probabilmente già lo fa mi auguro che lo faccia ancora di più ma insomma vuol dire mi ha fatto molto piacere risentire una conferma c'è c'è il negozio c'è lo stilista c'è il mercato c'è la vendita però ci sono gli eventi ci sono gli artisti c'è l'arte c'è l'arte è difficilmente c'è la qualità dell'arte però alla fine andiamo a ridurre è qualcosa di semplice ma difficilissimo da cogliere insomma è per questo l'esperienza di ritornare di conoscere le proprie origini non 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 una strategia probabilmente è certamente giusta quella che indichi però la scuola adesso si propone di essere una buona scuola allora la domanda un po' mi stuzzica io sono un po' orfano di una dimensione scolastica che era il studio d'arte il studio d'arte era una cosa che si richiamava al bavaus si richiamava l'arte totale all'essere creativi per la produzione no? e a dare a tutti la possibilità la socialdemocrazia la repubblica di Weimar dal cucchiaio alla città dobbiamo vivere meglio tutti grazie al progetto all'arte e adesso invece abbiamo una buona scuola abbiamo una scuola che si propone di essere sempre più professionalizzante sempre più settoriale che si comunica sempre meno dove i professori sono portati a dare delle performance dove ci sta ci sarà probabilmente un super professore che sarà in testa a tutti gli altri che una volta si chiamava preside e che però non è detto che ha le qualità solari da capo e quindi c'è un rischiamo grosso insomma quando ogni io credo che per tutta questa prospettiva amare gli animali amare i fagiulli e coltivare e dare la possibilità di crescita a tutti è una cosa fondamentale necessaria per tutte le società noi in Italia abbiamo una scuola all'ostace questo è un esempio di un momento finisce di scuola e non voglio fare il pianto greco ma è stato difficilissimo qual è il consiglio che daresti al nostro Giovane Renzi per una buona scuola che funzioni che trasferisca l'amore che dia qualità che dia rispetto al passato al presente infinito che coglie la fotografia e poi ci permette di capire e indossare e vivere senza avere paura grazie la domanda è interessante come tradurre tutto questo in qualcosa che sia un insegnamento quali sono i capisalti di questo ragionamento che faccio io certo ci vuole la questione qualunque lavoro deve nascere dalla passione perché la passione è quella cosa che ti fa lavorare la mente anche al di cuore di quello che tu vuoi fare quando hai una passione la mente fugge e va verso la tua passione uno che fa fotografo secondo me deve esercitarsi anche nel fare pensare allo stesso fotografico alla macchina fotografica alle luci a queste cose ma quello che è importante è il soggetto perché il soggetto rimane diciamo la forza di una fotografia cioè io non credo che ecco allora dare al ragazzo io fosse un insegnante di fotografia per quello che ho imparato io ho visto anche tanti fotografi ho conosciuto tanti fotografi ho sempre visto che per di tutto ognuno ha scelto un suo stile un suo modo di guardare il mondo Oliviero è come dire inconfondibile con gli altri ma anche tanti altri sono inconfondibili perché hanno scelto di perfezionare qualche cosa che loro amavano che fosse poi un fiore che fosse una ragazza che fosse un vestito che fosse un monumento è qualche cosa che tu guardi con uno sguardo guarda ecco il fotografo secondo me dovrebbe essere prima di tutto una persona che ama guardare le cose e vederle nella loro semplicità e nella loro bellezza che molte volte è trascurata la bellezza di molte cose è trascurata dal fatto che siamo abituati a vederla però non è detto che siamo abituati a vederla non va fotografata no? un rispetto proprio che è quella cosa che è su tutti gli angoli sì però proprio perché è su tutti gli angoli rifarla vedere in fotografia ti fa riflettere su quella cosa cosa che forse non ha mai fatto per cui io penso che tutto parta da un ragionamento che sta nel cuore cioè quando tu guardi facciamo un esempio un teore di Toscani tutte le sue foto se pensi le riconosci ma perché le riconosci? la domanda è perché le riconosci? perché c'è sempre un soggetto quasi sempre umano quasi sempre una persona quasi sempre un gruppo di persone quasi sempre che ti fanno pensare a una storia che sta a piedi no? quando lui fece la famosa fotografia di tutti questi disperati albanesi che arrivavano non so se mi ha ricordato quella fotografia che sembravano tanti topi avvanticati sull'albero se affacciavano di parte a un certo punto non solo è una bella fotografia con la luce giusta ma voleva dimostrare la disperazione che può avere un popolo che spera di arrivare in un paese libero spera di prendere una vita spera di non allora adesso la fotografia dobbiamo pensare meno tecnica e più cuore meno tecnica e più cuore abbiamo bisogno di cuore abbiamo bisogno di immagini che ci commuovano che ci facciano riflettere che ci facciano pensare cioè molte volte una foto senza un senso in realtà è questo le foto devono sempre avere un senso proprio ieri eravamo a Lugano a casa di un grande fotografo che è stato un grande fotografo dell'epoca degli anni diciamo 70 a New York che ha fotografato questi personaggi e questa situazione ma un reportage è impressionante perché ti riporta a vedere quella situazione quelle cose come alcuni foto hanno detto che è un'altra che è un'altra ma senza paura senza paura dello scandalo senza paura perché il reportage per me è la migliore arte della fotografia cioè portare un'immagine che è la fortuna di vedere riuscire a catturata perché quella è ancora l'arte del fotografo e capire che quella è una cosa che non va a benza non deve essere benza ecco poi sulla tecnica e sulla tecnica si possono fare tante discussioni però voglio dire poi ognuno lì ha il suo senso estetico per cui è diciamo un fatto soggettivo cioè io vedo un'estetica di questo tipo dell'altro vede un'estetica a un certo punto l'ottività che possa soddisfare tutti forse non esiste no? nel senso sì c'è qualche cosa però le toglie foto non devono mai dar fastidio cioè anche se hanno lo scopo di suscitare scandalo come dicevo il ragazzo che muove di A.D.S. non deve se deve essere una bella foto non so come dire è difficile spiegarlo però è dentro di noi questo a sapere che per il fatto mi dà un'emozione mi suggerisce uno stato d'animo la luce del viso delle persone insomma voglio dire l'arte della fotografia attenzione è una delle più belle e delle più complicate è un po' come forse l'arte una volta della pittura cioè saper rappresentare quella situazione è una strana storia la pittura proprio per questa sua capacità lo sguardo di una persona colpa in un momento per cui ci è un'attività e allora io dico non è una delle cose più facili è una cosa di cui ci si può innamorare si può innamorare perché rappresenta quello che tu vedi no? quello che tu vedi lo vuoi fermare lo vuoi fermare perché ha suscitato un sentimento e se tu riesci a mettere nella porta il sentimento che hai avuto tu sei un bravo artista perché vuoi dire che lo puoi ripetere lo puoi rimandare lo puoi far funzionare anche agli altri insomma parlare di fotografia non è facile parlare di tecnica di fotografia forse è più facile però da lì lascerei fare ai fotografi professionisti perché io ho sempre scelto le fotografie sulle emozioni l'altro giorno ho fatto un regalo con i suoi amici e gli avevo venuto fare una foto io tra i suoi amici e mi ha insegnato una cosa una parte e mi ha detto guarda quando sono due foto un uomo cerca di prendere un appelleggiamento così mi sento pieno della cosa manda dentro la macchina manda dentro la macchina che ti sta a toccare e lì assumerai senza volerlo il viso giusto la cosa giusta e io ho visto questa foto che è effettivamente molto più grande che io perché effettivamente il solito non si sa come girarsi quando non si girarsi sotto e poi si guarda di te non come se tu tu devi andare negli occhi a quello che guarderà la fotografia per cui tu penso e io penso se tu mi stai passando solo ti devo guardare i tuoi occhi perché i tuoi occhi sono i miei occhi che guardano tu fotograferai i miei occhi per cui io guardo i tuoi occhi guardo la tua la tua macchina perché quelle sono i tuoi occhi allora questa è già una tecnica cioè pensare sempre che chi ti guarderà ti guarderà attraverso quella quella macchina che è quella che stai guardando e allora vuoi penetrare negli occhi di quelli che ti stanno guardando cioè gli dai i tuoi occhi come un messaggio questo è un po' grazie